buonasera benvenuti a questo nuovo video guardate il tempo fuori diluvia se volete fare a cambio venire qua in lombardia io vengo in qualche vostra regione dove c'è sempre il sole ci mettiamo d'accordo e facciamo questa trasferta questo cambio di case volentieri ma non credo che nessuno si cambierà con me vabbè sono qua per questo video finalmente sono ritornata mia make up session alla mia zona tutta luccicosa perché vi volevo raccontare una cosa come avete letto dal titolo allora il video questo qui lo potevo girare anche un mese fa però ho voluto aspettare perché volevo vedere un po di cose adesso vi spiego e ho deciso pensando già al viso il viso cosa facciamo se noi abbiamo qualche rughetta qualcosa volendo avevo già girato un video si può un pochettino un attimo che abbasso la televisione possiamo un pochettino migliorarlo con delle punturine dei trattamenti estetici eccetera senza deformarlo cambiare connotati anche gente giovane magari che non ha la pelle in fase di processi di invecchiamento ma magari ha una mimica facciale che corruga molto per dire la fronte o gli occhi strizza così e succede che arrivano le lunghe prima del tempo quindi qualche scamotaggio qualche piccola punturina e ti riassessati mostra in modo un po più fresco il viso per cui lì insomma si trova facilmente nella soluzione mentre per il fisico è un po più problematico perché a parte le diete ecologia plastica estetica lasciamo perdere però è un po più difficile proprio per un benessere sia interiore che esteriore io dico sempre se stiamo bene dentro stiamo bene anche fuori e quindi ero alla ricerca di un'azienda e se dare dei benefici proprio fisici e interiori ed esteriori e non è semplice trovare delle aziende con dei prodotti degli integratori veramente validi perché alla fine cos'è il nostro stile di vita e il cibo la ginastica il nostro stile di vita e poi servono gli integratori perché adesso con tutto lo smog eccetera si mangia l'alimentazione onnivori vegetariani vegani ce ne abbiamo sempre qualche carenza e poi perché c'è troppo troppo inquinamento quindi anche quello che mangiamo spesso introduciamo dentro delle tossine che poi rimangono si piassano lì e possono far male quindi io sono sempre stata integratori di qua cercavo quello e quell'altro però mi era venuto in mente che poi mentre avevo notato dove mi potevo come posso dire l'azienda che potevo puntare mi ero ricordata che questa azienda qua avevo utilizzato già i prodotti perché la mia estetista del 2016-1917 mi aveva proposto in un pacchetto che avevo fatto di massaggi anche un set particolare e devo dire che mi ero trovata bene poi l'estetista però aveva chiuso io avevo acquistato ancora dei prodotti per un po' di tempo poi mi sono passati di mente anche perché lei non c'era più e ho fatto un flashback ho detto però ho detto quell'azienda lì perché la vedevo ogni tanto in giro online che la pubblicizzavano ma fammi un po' andare a sentire poi ho contattato una ragazza e così ho ordinato i prodotti li ho pagati e non mi ha regalato niente nessuno perché se no io ho cercato ho detto ciao proviamo un po' il mio problema principale era una tensione addominale al basso ventre dovuta alla colite sono delle malattie psicosomatiche ve ne avevo già parlato della colite che io quando facevo l'assistente di volo sono un po' delicata in quella zona lì e questa tensione al basso ventro fastidiosa è una tensione che è un po' di gonfiore poi non è che io quando giro i video sto a dire oh c'ho la tensione al basso ventro cioè me lo tengo per me e cerco di risolvere però dico qua mi dicevo tranquillamente devo risolvere questa cosa qua perché non è possibile che tutti i giorni ho questa problematica fatto sta che ho detto vabbè avevo sentito dire questo qua che poi l'ho già provato e mi ero trovata bene ho detto ciao riproviamo a prenderli perché un po' mi ero scordata e ho preso tutto il set di tre prodotti che poi vi mostrerò in un altro video ho detto vabbè proviamo a prenderli poi ho detto oh se mi trovo bene li ricompro e magari li propongo anche e così è passato un mese nel frattempo le ragazze che mi seguono su instagram facebook così ho girato i video che parla contavo un po' e stavo sempre col mio cocktail super power cocktail col mio beverage notturno così e devo dire che dopo circa 20 giorni sono cominciate ad arrivare i primi risultati soprattutto la tensione addominale se ne è andata via cioè non vi rendete conto proprio il piacere di questo fastidio che non sopportavo più e se uno dice ma potevi fare qualcosa e ma avevo preso un sacco di prodotti in erbodisteria mi aveva dato anche la ginecologa dei fermenti lattici infatti stavo quasi pensando tra virgolette adesso poi la chiudo e volevo andare a fare anche l'idrocolonterapia e ho detto magari così mi pulisce via tutto e poi invece non c'è stato bisogno ho detto vabbè dai proviamo questi ero andata un 20 giorni prima che iniziassi a utilizzare questi prodotti in erbodisteria e ho speso 87 euro che poi mi sono pentita appena sono uscita ho detto allora sono fessa perché ho detto potevo prendere gli altri prodotti che ci stavo pensando questi qua che vi sto raccontando adesso invece sono andata a spendere 87 euro in erbodisteria i prodotti dell'erbodisteria su 4 che ne ho presi uno solo ha finzionato quello un po' drenato e gli altri niente infatti ho detto ah tommai più allora poi niente dopo una ventina di giorni ho detto ciao ordiniamo questi prodotti o al massimo cosa faccio li butto via ho speso quello che dovevo spendere e basta poi invece ragazzi piano piano cosa è successo nel mio fisico a parte che una carica pazzesca voglia di fare sempre super positiva perché se stai bene dentro alla fine poi stai bene anche fuori sei carica quando invece c'è del malessere che magari ti senti gonfia così poi non c'è voglia di fare niente sei così annoiata sei apatica invece si è trasformato a queste qui poi traverente questi prodotti che sto utilizzando quasi tutti i prodotti di questa azienda sono vegani e senza glutine ecco precisiamo quindi oltretutto mi ha spinto anche a questa e ogni giorno che continuavo a prenderli sempre meglio regola regola intestino regolare piano piano un po' di pancetta un po' di gonfiore anche dovuto un po' al lockdown lo stress e tutto quanto inconscio piano piano si cominciava ad asciugare le gambe piano piano si sono proprio sgonfiate sgonfiate una cosa incredibile proprio asciugate incredibilmente io poi ragazzi ho 53 anni non ho 20 anni quindi sono anche periodi della vita che uno già ha 50 anni da meno pausa non sono in meno pausa quando lo sarò ve lo dirò per ora mi sa che ci mancano ancora qualche anno visto mia mamma che è andata a 59 quindi si va avanti così quindi non ho nessun sintomo però come tutte le donne abbiamo gli alti e i bassi anche dovuto al ciclo con fiori premestruali così e allora niente poi è finito tutto il set di questi prodotti e cosa faccio? li riprendo? li riprendo? certo che li riprendo li ho subito riordinati prima che finissero perché ho detto qua ragazzi se finiscono poi io non posso stare senza poi mi dice esagerata adesso non puoi stare senza dei prodotti però mi ero trovata così bene che mi dispiaceva anche interrompere ho detto qua se in un mese ho avuto dei risultati del genere figuriamoci in due e così io li ho riordinati e li ho riacquistati tutti quanti poi ho preso anche un prodotto per i capelli che poi vi mostrerò e devo dire che anche quello ha fatto degli effetti adesso non mi vedete forse andate su Instagram avevo messo delle foto in un mese veramente ci sono stati poi quello lì farò un video a parte però ecco vi stavo raccontando la mia esperienza e quindi niente è passato un altro mese e poi vedevo la gente che mi dice ti sei asciugata hai perso chilo vabbè ma non ero grassa no però ci fasse diverse si più asciuttano pure mia mamma l'ha detto pure le gambe che io sempre ho stata attenta a fare ginnastica perché tendo a ingrossare un pochettino subito il muscolo quindi io faccio sempre ginnastica in aria per le gambe senza pesi pure con le cavigliere sì però da sdraiata e quindi però lo vedevo allo specchio ma cavoli ho detto ma questi sono i prodotti che fanno questa cosa qui però ecco io vi dico sempre sto attenta nell'alimentazione è un'alimentazione normale sapete che faccio due passi poi uno abbondante con carboidrati eccetera tipo brunch e poi la sera abbastanza leggero però ogni giorno che passava mi stabilizzavo zero gonfiore questa pancia cioè dilatata di questa tensione chi ha la colite lo sa perché è fastidiosissimo chi ha utilizzato questo prodotto che aveva riflusso la gastrite ha avuto gli stessi benefici che non aveva più questa problematica sono tutti prodotti naturali ci sono dentro fibre frutta verdure probiotici vitamine minerali biotina di chi più ne ha più ne metta veramente è proprio un cocktail che ti fa proprio come posso dire chiamo il cocktail del benessere energia tutta una carica una bomba uno dice ma cavoli questo qui poi non è che lo può utilizzare sempre questa azienda ha 70 brevetti che praticamente veramente ha certificazioni internazionali e i prodotti sono veramente super mega controllati prima di tutto c'è un brevetto dentro che si chiama il concetto dei trasporti dei nutrienti cosa significa che gli ingredienti che sono dentro questi prodotti vanno velocemente dove le nostre cellule hanno bisogno dove le nostre cellule e vanno subito lì quelle che non hanno bisogno si vanno via con la plin plin non fanno assolutamente male proprio perché c'è questo concetto e quindi si possono continuare a utilizzare senza interromperli capito anche se io l'utilizzo per un anno non mi succede niente non mi fa male né al fegato né i rini niente perché proprio per questo motivo e poi comunque sono ingredienti non artificiali e per dirvi che sono anche vegani e quindi è questo poi hanno altri certificati che proprio super mega controllati gli ingredienti proprio nei minimi particolari che solo il 5% delle aziende mondiali hanno questo brevetto perché costa tantissimo l'azienda è a base in Germania e in più poi c'è anche il brevetto dell'anti-doping questi prodotti sono tutti no-doping anche gli atleti li possono utilizzare non stop senza problemi ecco perché non c'è nessun tipo di ingrediente che può creare quando fanno le analisi del sangue qualche problematica che dicono tu sei dopato ecco per dirvi e bla 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 comunque poi scriverò un articolo dettagliato così vi fate un'idea dell'azienda perché ho scelto questa ecco e quindi siamo arrivati al secondo mese dovevo prenderli per il terzo mese vabbè faccio un piccolo change e ho provato a cambiare leggermente un altro set che è un simile un pochettino più completo e ho preso questo che sto utilizzando adesso sono circa 10 giorni dalla fine quindi 6-80 giorni già che lo utilizzo e quindi niente io mi trovo benissimo ragazzi sto benissimo sono felicissima e sempre ogni giorno mi sveglio con tanta positività anche se una giornata no non lo so evidentemente mi vedo bene allo specchio sgonfia gambe leggerissime magrissime magrissime in modo giusto mamma mia ragazzi ma non ci ho mai avuto così neanche quando c'avo 20 anni porca miseria accipicchia accipicchia ma io voglio condividere anche con le altre persone questi miei risultati veramente perché me li devo tenere solo per me e vorrei che tante persone stessero bene come sto bene io fisicamente interiormente prima di tutto perché a me delle seriorità certo è logico che è bello farsi vedere che sei bene però io devo star bene dentro se non sto bene con questi malesseri ma dove vado avete capito e quindi cosa è successo che ho deciso di portare avanti questa attività e quindi sono diventata come posso dire associata e ho il mio sito con tutti i prodotti ecco quindi se uno li vuole acquistare basta che mi chiede a me e gli mostro tutto quanto ho anche un numero di telefono dedicato proprio per questi prodotti poi senza impegno uno può chiedere informazioni comunque in questi due mesi ho studiato naturalmente ho partecipato a tante zoom online di introduzione a tutti i prodotti alla conoscenza all'utilizzo per chi va bene questo per chi va bene un altro tra parentesi ovviamente qualsiasi tipo di integratore chi ha delle problematiche delle patologie o le donne incinte è meglio che chiedono ovviamente sempre ai loro dottori e precisiamo ma per quello per tutto anche se andate a comprare in parafarmacia un prodotto tipo subredin c'è scritto chiedere così ecco precisiamo però per il resto ragazzi cioè veramente ma proprio non ti appesantiscono per niente anzi ti alleggeriscono e quindi poi ho cominciato anche ad acquistare qualche altro prodottino perché ho detto proviamo qualche prodottino così che sono curiosa così mentre sto provando questo set che il prossimo video sarà dedicato a questo set pazzesco cavallo di battaglia veramente e ho provato qualche altro prodottino che poi piano piano chi mi segue sulle stories su instagram o sugli altri social già sta un po' uno dice ma tu sei diventata come le altre a pubblicizzare no vabbè l'ho provato per 70 giorni e se andate a vedere il mio storico su instagram vedete che già lo uso da un po' e quando ho girato il primo video oggi quindi non è che ho appena appreso i prodotti ah sì ragazzi è qua e là no posso testimoniarlo io gli effetti che veramente non riuscirei mai a proporre una cosa che non sta bene io li continuerò sempre a prendere le persone che le hanno acquistate si sono trovate benissimo e le hanno anche riacquistate anche loro persone di tutte l'età sia più giovani che anche un po' più grandicelle poi dipende che cosa si cerca che cosa si vuole perché per ogni ovviamente esigenza ci sono i prodotti specifici e poi alla fine cosa succede ah sì ma però questi possono costare beh ragazzi ma volete integratori da 5 euro cinesi volete andare a comprare quelli in offerta al supermercato a 3 euro e 90 ma cosa pensate che possano servire cioè sulla salute e sul benessere secondo me non si deve risparmiare anche perché se dovessi proporre un prodotto che costa 4 euro ma questa è una schifezza una catorce sono prodotti giusti di prezzo come gli integratori quelli che sono in palestra che sapete poi se si fa il conto io ho fatto il conto di certi prodotti cioè su 4 euro al giorno 4 euro al giorno ma quante cavolate che compriamo 4 euro al giorno se vai a mangiare una pizzetta un patatine un caffè un brioche se ho partito 4 euro voglio un aperitivo per dire alla fine non sono niente veramente altri prodotti 80 centesimi al giorno ma chi se ne frega ma se mi fa star bene che mi manda via quel malessere che avevo alla tensione addominale ma me ne frego io spendo anche 10 euro al giorno per dirvi volevo andare a fare l'idrocolonterapia che costa più di 100 e passa euro in una volta sola che poi dopo me l'avrebbe fatta ripetere dopo 20 giorni un mese quindi per dirvi e quindi sono felicissima sono contenta poi di condividere anche loro perché vi ho spiegato un attimino tutto quanto perché se non mi dice questa propone quella io non propongo io vi mostro i prodotti che sto utilizzando mi sono trovata bene io poi vi mostro anche le foto quindi non posso neanche far finta però voi potete dire eh vabbè ma tu un po' genetica sei sempre stata magra sì sono stata magra però adesso proprio mi sono veramente eh asciugata magra abbastanza però magari due chiletti in più infatti adesso mi sembra che ho due chiletti se ne sono andati via di tossine mi ha ripulito tutto dentro da tutta la robaccia sapete che le tossine a tenerle dentro comunque fanno malissimo comunque pure la cura quella lì dell'enteros gel che avevo proposto quanto costava ogni barattolo costava 20 euro fate conto bisogna prenderle uno per ogni 10 anni di età io quanti li devo prendere 5 quindi sono 100 euro comunque anche una che ha 45 anni se li deve prendere 5 comunque insomma costa tutto non è che le cose buone di nicchia costano poi se uno vuole andare a prendere la spazzatura è benissimo io faccio sempre l'esempio no vuoi prendere le scarpe da Primark a 10 euro che a volte le ho comprate anche io così a Scrause per stare in casa ok però sono da 10 euro poi ti vengono a prendere le Nike ovviamente sono di alta qualità ragazzi che quando vai fuori anche se piove non ti si bagna il piede almeno spero no vabbè sono più ammortizzato la suola eccetera c'è tutta un'altra cosa passi cammini con quelle di Primark senti il sasso sotto per dirvi per cui di che cosa stiamo parlando quindi questi prodotti qua sono solo per persone che cercano il meglio poi se uno vuole tenersi in malessere se li tiene io vi l'ho detto perché mi piacerebbe che tutti stessero bene come sto io anche con i capelli che sono veramente diventati bellissimi adesso non per vantarmi però sono sempre questo è adesso il quarto giorno che non li lavo guardate come sono sono cresciuti tanto perché questo set di ovviamente di vitamine ovviamente ti rivitalizza tutto il corpo e poi c'è anche un prodotto apposito che sto utilizzando già quasi due mesi che veramente è pazzesco per i capelli quindi vabbè poi ve ne parlerò un po' per volta perché io sto provando i prodotti poi c'è un prodotto che è uscito da poco ve lo mostro solo un secondo questo qui per le amanti dei carboidrati questo va bene come regalo di Natale poi vi racconterò perché lo sto provando quindi prima vi mostrerò altri prodotti però questo è pazzesco per il metabolismo dei carboidrati se uno magari non gli interessa altri prodotti è questo vabbè io vi ho detto tutto sapete che io sono molto limpida quando ci sono le cose che non vanno bene di recensioni quello quell'altro sapete che ho sempre ho acquistato le cose che vi ho proposto e anche questi prodotti comunque li acquisto non è che l'azienda te li regala e se non devono in fallimento e quindi niente sono molto contenta sto benissimo e mi auguro che poi abbiate anche voi la possibilità di provarli e comunque non esitate semmai a contattarmi e vi lascio il link qui sotto dell'articolo sul mio sito così c'è scritto tutto quanto c'è anche il numero di telefono per chiedermi informazioni c'è il link del sito e ben presto arriverà anche il video quello del primo set quello che mi son trovata benissimo così ve lo mostrerò in anteprima anteprima no vabbè c'è da tanto tempo perché è il cavallo di battaglia come dicevo io la Miledi e la Lupita sta dormendo lì sul letto chi c'è c'è la la Scilla che è ritornata in casa poi c'è la Maltesa la Scilla zitti zitti che adesso arriva l'inverno allora è tornata in casa vabbè comunque viva la vita viva il benessere viva il star bene sono troppo felice ragazzi e ci vediamo molto presto con il video quello lì dei prodotti ciao 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 ciao